Il Milan ha vinto e questa è la prima notizia positiva, la prima e forse unica bella notizia della serata di ieri. Il Milan ha vinto, ha portato a casa i tre punti e quindi si parte ovviamente con le buone notizie perché con questi tre punti il Milan tiene a distanza le inseguitrici, il Bologna, l'Atalanta, la Roma, la Lazio appunto, il Napoli, Fiorentina e in tutte le altre dietro e avvicina la Juve che deve comunque giocare domani sera contro il Napoli. Insomma, chissà, magari il Milan riesce anche a migliorare la classifica e avvicinarsi al secondo posto. Bene anche la reazione nel finale, il gol di Okafor, è un ragazzo che comunque quando entra fa sempre o quasi sempre la differenza, è un giocatore interessante, 5 gol in campionato non sono pochi per un giocatore che ha un minutaggio molto basso. Quindi, notizia buona sono i tre punti, notizia buona è il miglioramento in classifica, il gol di Okafor che si fa trovare pronto, presente, giocatore che il Milan ha acquistato per 14 milioni di euro, ci può anche stare, ha segnato 5 gol quasi tutti da subentrante, ben 4, quindi va bene e queste sono le cose positive. Poi però bisogna essere onesti, bisogna saper anche guardare oltre il risultato e vedere che il Milan ha fatto un passo indietro rispetto alla prestazione contro l'Atalanta, perché contro l'Atalanta c'è stato il pareggio, quindi male il risultato, bene la prestazione. Con la Lazio, bene il risultato, ma male la prestazione. Sia con l'Atalanta che con la Lazio, in maniera onesta, commentiamo entrambe le situazioni. Abbiamo elogiato il Milan per una buona gara contro i Bergamaschi e allo stesso tempo bisogna dire che il Milan non può giocare così male contro qualsiasi squadra, in particolar modo contro la Lazio. Nel primo tempo, la prima mezz'ora è stata praticamente arregalata alla squadra avversaria, il Milan è incapace di impostare una manovra degna di nota, il Milan è incapace di tirare in porta, in balia dell'avversario, poco ritmo, pochi spazi giusti per inserirsi, male. Prima mezz'ora davvero molto 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 male, male. Poi la Lazio ha un po' abbassato i ritmi, il Milan è uscito fuori nei dieci minuti finali del primo tempo e finita 0-0. Ma il tifoso del Milan che vede la partita non prova gusto, non prova entusiasmo, è un gioco noioso, un gioco che diverte poco, un gioco che non esalta il tifoso. Questo è anche il mio punto di vista perché comunque io guardo le partite del Milan ma è un primo tempo così noioso in cui l'avversario ti mette lì alle corde e ti chiami Milan e con tutto il bene, con tutto il rispetto devi giocare meglio. Poi nella ripresa qualcosina in più, Milan che è stato tra virgolette favorito anche dal fatto che ha giocato con un uomo in più e su questo ci torniamo perché c'è una polemica enorme tirata su da Lotito che addirittura ha parlato di massimi sistemi, di rivoluzioni, del modo di arbitrare. Ma detto questo, a fine partita c'è anche una polemica in conferenza stampa con uno Stefano Pioli stizzito, arrabbiato, nervosissimo oserei dire perché un giornalista diciamo di fede laziale ha accusato Pulisic di essere un giocatore antisportivo, al che Pioli si è arrabbiato, ha difeso giustamente un ragazzo correttissimo come Pulisic. A quanto pare Pulisic non si era nemmeno accorto del fatto che c'era un giocatore della Lazio a terra e è andato sul pallone, Pellegrini lo ha lasciato andare e poi ha commesso fallo tirando giù il giocatore rosso-nero. Quindi c'è stata probabilmente un'incomprensione, ma accusare Pulisic di essere un giocatore antisportivo non va bene. Al che Stefano Pioli si è arrabbiato molto, si è nervosito, è stata una conferenza molto nervosa così come la partita perché l'allenatore rosso-nero ha voluto difendere il proprio giocatore e da questo punto di vista ha fatto bene. Però, ecco, si notava il nervosismo di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la partita abbiamo detto il mio non ha giocato bene e non lo diciamo solo noi, lo dicono anche tutti i tifosi rossonieri anche se sono giustamente contenti di aver portato a casa i tre punti però oltre al risultato ci deve essere anche un gioco. E lo dice anche Luca Lucci, uno dei capi della curva sud del Milan con un lungo post sui propri social, dice ancora una volta, per l'ennesima volta, un Milan anonimo per molti tratti nuioso, privo di idee, di mordente, di velocità di gioco errori su errori, incapaci di attaccare se non nello stesso identico modo confuso nel difendere. Parole molto forti nei confronti del gioco del Milan e quindi anche di conseguenza di Stefano Pioli che fa giocare il Milan in questo modo. Il Milan deve entusiasmare, il Milan deve avere fame il Milan deve essere il Milan che non diventi la normalità perché una cosa è sicura non siamo molto inclini alla normalità dice Lucci. Però ecco, il pensiero del tifoso è questo è un Milan anonimo noioso, privo di idee, di mordente, di velocità di gioco su questo non si può dire nulla è un po' quello che abbiamo pensato tutti è vero, c'è l'entusiasmo per aver portato a casa una vittoria grazie anche ad un colpo di un singolo anche se, devo essere onesto il Milan aveva trovato anche la rete con Leao Raffa Leao l'aveva buttata dentro Raffa Leao aveva trovato il gol su una deviazione è stata poi segnalata la posizione di fuorigioco ma ci sono ancora enormi dubbi e qui parliamo veramente di questione di millimetri e dopo che tra l'altro il replay in televisione è stato inviato 8-10 minuti dopo già questo è raro come caso perché il replay è immediato già su questo replay del gol annullato da Leao è stato fatto vedere 10 minuti dopo ma anche dopo il replay nemmeno siamo convinti che quello fosse un gol da annullare poi sono avvenute le tre espulsioni Lottito è praticamente andato davanti alle tv ha parlato con tutte le tv possibili e immaginabili dice non parlo di episodi parlo di pura di sistema la Lazio porrà il problema nelle sedi preposte la squadra si farà valere nelle sedi opportune partita priva di valori sportivi c'è davvero ho letto di tutto tutto questo perché? perché ci sono state tre espulsioni che tra l'altro sono anche giuste no? anzi secondo l'ex arbitro Marelli mancava un rosso a Usai per una gomitata su Giroud perché poi il pugno di Jovic al giocatore a Izzo del Monza il pugno di Jovic ha portato a due giornate di squalifica l'attaccante del Milan la reazione spropositata su Olivier Giroud da parte di Usai non ha portato al rosso quindi probabilmente serviva il rosso anche in quell'occasione comunque succede sempre di tutto quando gioca il Milan anche gli avversari si scatenano con queste dichiarazioni lo dito dice partita priva di valori sportivi e l'accusa a Pulisic è veramente infondata perché parliamo di un giocatore molto molto corretto ciao a dopo